Al Salone del Gusto per parlare anche di agricoltura sociale. Certo perché l'agricoltura sociale rappresenta uno degli aspetti della multifunzionalità dell'azienda agricola. Quindi oggi è diventato soprattutto per la nostra regione, la regione Marche, un aspetto saliente che può qualificare e differenziare la nostra struttura agroalimentare dando ulteriori servizi come quello di cui abbiamo parlato oggi che è il tema dell'orto, orto inteso proprio come aspetti umani ma in cui l'agricoltore rappresenta l'elemento fondamentale e essenziale perché apporta le sue competenze e la sua esperienza come appunto succede nell'orto in carcere.